Ciao a tutti e ben ritrovati! Allora siamo finalmente arrivati alla quarta parte del nostro corso di SQL Server Express. Nella terza abbiamo visto un acceno di come sono le funzioni basi del SQL tradizionale. Adesso vedremo sempre, col linguaggio SQL Server, faremo un ulteriore approfondimento per vedere come funzionano i join. Quindi vedremo come si fanno i join con la select, quindi merge join, come si fa un delete con il join e come si fa a fare un update con il join. Concluderemo questa parte vedendo anche come si fanno le query multi, a multilivello. Capito questi due settori, terza e quarta parte, quindi che vi dà le basi per poter lavorare abbastanza bene con il codice SQL, passeremo alla creazione delle view e qui andremo a creare appunto delle view che appunto permetteranno l'aggregazione dei dati che poi andremo a passare al frontend. Allora partiamo con il select e andiamo a capire cosa sono questi join se non lo sapete. Andiamo nel nostro Management Studio. Apriamo ad esempio una query, quindi abbiamo sempre il nostro database, apriamo la nostra query, ne apriamo una vuota. Perfetto, allora io adesso inizio e dico che voglio fare un select di tutto, di tutto cosa. Prendiamo ad esempio la tabella del dettaglio dell'ordinato, from ci mettiamo anche il database, mcss, ok. Vi ricordo che il database non è obbligatorio. se qui in alto avete definito che questa query sta lavorando su questo specifico database. Se qui selezionassi master e qui non specificassi il database, la query non funzionerebbe. Quindi è sempre buon uso nel codice andare a definire anche il nome del database, per sicurezza. Perfetto, facciamo ancora un po' di zoom così si vede bene. Questa è la prima. Poi facciamo un altro select, ok. Cancelliamo questo dettaglio qua e ci prendiamo il prodotto ad esempio, il product. Ecco qua, lo prendiamo, drag and drop, lo tiriamo dentro, ecco che c'è scritto la query. Adesso noi facciamo esegui così eseguiremo tutte e due le query che sono scritte qua. Quindi vedete ci dà appunto due risultati. Questa è l'order detail e questa è il risultato della product. Adesso ipotizziamo, vedete qui il campo che comunica tra le due tabelle, è esattamente il product e il product name. Volevo abbassarmi, ok. Quindi noi dovremmo fare un legame tra queste due informazioni per, ipoteticamente, diciamo che magari noi vogliamo prenderci dall'informazione della order detail, vogliamo prenderci il product. Product, poi sempre virgola quando si prendono altri campi, prendiamo la quantity ad esempio, prendiamo la unit prise, e prendiamo, ok, quindi dalla order detail prenderemo questi tre campi, uno, due e tre. Dall'altra ci portiamo dietro il product code ad esempio, product code, e ci portiamo dietro anche lo standard, il costo standard ad esempio, standard cost. Ok, queste sono le informazioni che noi vogliamo avere in output sulla nostra query. Come facciamo a fare questa cosa qua? È un po' come il cerca verticale in Excel, quindi se andate da una tabella e volete prendere un'informazione che sta su un'altra tabella, dovete avere un campo di ricerca che sia univoco su tutte e due le tabelle, in modo che possa comunicare le informazioni che stanno sul campo A della prima tabella, devono essere uguali alle informazioni che stanno sul campo A della seconda tabella. Quindi come si fa? Facciamo sempre un select, quindi select, qui lì diciamo che noi vogliamo prendere tutti questi bei campi, di solito si fa così, poi si va a capo. Da dove? Da from, ok, e si definisce la prima tabella, quindi noi prenderemo la prima tabella. Perfetto, definendo questa cosa qua vedete che lui dà errore su questi due campi, perché derivano da un'altra tabella. Allora qui noi dobbiamo andare in join con questa tabella, come si fa ad andare in join? Si scrive left join. Questo permette di prendere tutte le informazioni della tabella A e solo le informazioni dove la chiave, ok, esiste in entrambe le tabelle. Quindi prendiamo dove esiste in entrambe le tabelle, verrà riportata anche queste informazioni qua. Se una chiave che è nella tabella A, ok, che è la prima che io vado a definire, non c'è nella seconda tabella, per questi due campi ci verrà riportato il valore null. Tra poco vediamo anche questo tipo di risultato. Quindi noi li dobbiamo dire, partiamo da questa tabella e facciamo un left join, quindi ci colleghiamo verso la seconda tabella e gli diamo il nome. Quindi facciamo un bel tab e uno spazio e ci prendiamo questa tabella qua. Perfetto, allora ci abbassiamo anche un pochino se ce la facciamo. Quindi siamo andati in join con questa tabella, però qual è la chiave di comunicazione? Manca la chiave, quindi li dobbiamo dire on, che ci dice, quindi comunica con quale chiave, questa chiave qua. Quindi abbiamo detto che dobbiamo prendere il campo product. Adesso ci compare la lista rispetto a prima quando ve la scrivevo qua, perché abbiamo definito le due tabelle. Avendo definito le tabelle, lui riesce a capire con quali campi stiamo lavorando e quindi ci fa una proposta. Quindi products deve essere uguale a products name. Perfetto. Dove questi due campi qua sono... Qui c'è un S di troppo. Product, ok. Dove questi due campi qua combacciano, mi riporti anche queste informazioni qua. Perfetto, noi abbiamo fatto il left join. Se noi adesso selezioniamo solo questa query qua, in modo da non eseguire questi due qua, e facciamo esegui. Vedete, ci compare il product, il quantity, gli unit price, e il product code e il standard cost. Qui vediamo che non c'è nessun null sulla destra. Probabilmente tutto quello che combaccia nella order detail la trovo anche nel product. Proviamo a fare uno right join, così è il contrario. Right join. Con right cosa significa? Che io prendo tutte le informazioni che stanno nella seconda tabella che vado a definire, e solo quelle dove la chiave comunica della prima tabella. Proviamo a eseguire questa query qua. E in teoria... Ok, ecco, mi aspetto che ci sia un null. Cosa significa? Che nella tabella del product io ho un codice prodotto, ok, al quale non è stato fatto nessun ordine. Quindi io vedo che questo codice prodotto qua non è stato ordinato, perché nella tabella dell'order detail non ce l'ho. Però ho tutte le informazioni della mia tabella products. E come dicevo, il right qui fallisce, perché non trova la chiave di comunicazione. Facciamo girare tutte e tre. Vedete? Il null è sul nvdt. Nvdt. Vediamo se lo troviamo. Nvdt. Ok, ce ne sono un po', non lo trovo, ma comunque diciamo che non sta comunicando. Quindi il product name, ok, non è presente sulla... Proviamo ad alzare. Facciamo così. Questo product name non è... Scusate. Un product name che è presente nella tabella production, ok, non è presente nella tabella degli ordini. Perfetto. Allora, capita questa cosa qua, quindi left e right, ok? E si scrive sempre così. I campi che vogliamo prendere. Dalla tabella, prima tabella che vogliamo utilizzare. Di solito si fa sempre il left, left, ok. Il right non si usa mai, perché tendenzialmente si mette sempre... La tabella primaria si mette sempre in testata, quindi tendenzialmente si usa sempre il left. Seconda tabella, on, le chiavi di comunicazioni. Sono di più di una le chiavi di comunicazioni? Nessun problema. Se per caso è più di una, non serve averne una unica come funziona in cerca verticale, come funziona Power Pivot in Excel. Si fa AND e si mette campo2 uguale a campo2 dell'altra tabella. Quindi, ad esempio, tabella A punto campo2, tabella B punto campo2. E si va avanti così. AND eccetera, campo campo campo. Quindi possiamo definire più campi come chiavi per far comunicare le due tabelle. Ipotizziamo che, ad esempio, ok, facciamo girare queste due qua. Io abbia i due campi chiavi che si chiamano lo stesso nome, ok. Se per caso questo campo si chiamasse uguale a questo, facciamo anche un test, rinominiamo, andiamo sul tasto destro della tabella Word, facciamo progetta, e al posto di product ci scriviamo product name. Se non ho visto male, l'altro è product name. Sì, ok. Adesso io faccio un bel salva. Ho cambiato il nome di questo campo. Quindi se noi adesso eseguiamo queste due query, vedete, product name, product name. Se io qua adesso vado a mettere product name, product name, lui ovviamente non riesce a capire, vedete, se la eseguo mi dà errore. Perché questo nome di campo è presente su tutte e due le tabelle. Allora come si fa in questi casi qua? Si deve mettere praticamente questo nome qua, quindi il nome della tabella, ok, e lo si fa anche sulla seconda. Qui si può anche andare a capo, non c'è nessun problema. Ok, quindi questo campo qua deve essere uguale a quello della seconda tabella. Se ora noi selezioniamo questo codice qua e proviamo ad eseguirlo, ci dà errore. Perché ci dà errore? Perché anche il product va cambiato in testata. Quindi anche qui, vedete, anche nel select abbiamo chiamato un campo che adesso non esiste più. Ed essendo che anche qui il campo deve essere definito, anche qui dobbiamo sempre definire il nome del campo accompagnato dal nome della nostra tabella. Se noi adesso andiamo ad eseguire questa select, ok, vedete che adesso funziona perché abbiamo definito bene dappertutto. Però questa tecnica qua può risultare un po' scomoda, perché vedete dovete riportarvi su ogni campo che è uguale tra le due tabelle tutta questa parpardella di nome. Allora, cosa si fa generalmente? Si fa a dare un nome differente all'interno dello script di ogni singola tabella. Ad esempio io qua gli dico es, ok, quindi chiamati come order, posso fare anche con due lettere, o di, ok, e questa gli dico, guarda, ti chiami es, eeeh, prd, product. Perfetto, adesso queste due tabelle, quando io dovrò richiamarle nei campi all'interno della mia query, si chiameranno od, order detail, oppure products. Quindi so che qui deve essere products, perfetto, mi prendo questo e metto od. Qui anche metto od, ok, e qui metto products. Ok, andiamo anche qua su, vedete? Perfetto, se io adesso la eseguo, vedete, funziona lo stesso, quindi non devo più andare a scrivere tutta questa parpardella di codice, dei riferimenti database, schema, tabella, per andare a definire a quale tabella appartiene il campo che sto in questo momento utilizzando, perché gli ho messo un alias, questo è un alias, quindi, as, od, left join, ok, e così. Quindi, eh, quando io definisco la tabella in questo modo, ovunque richiamo i campi, nel caso abbia bisogno di specificare la tabella di provenienza, richiamerò sempre l'alias. Ovviamente nulla vieta di andare a mettere anche tutto il percorso, però non ha, non ha alcun senso. Perfetto, direi che con questa lezione abbiamo visto tutto, abbiamo fatto il left join e il right join. Ultima vera, manca il right, l'inner join, quindi anche qua, l'inner join, inner, che anche questo è importante, quindi sono i tre principali, ok, quando noi mettiamo inner, significa che prendiamo tutte le informazioni dove la chiave combatsa, sia sulla tabella 1, sia sulla tabella 2, ok, se l'informazione è mancante in una sola delle due tabelle, la riga viene completamente esclusa, quindi vedevamo che con left c'erano tutte, perché nella prima tabella c'era tutto quello che c'era anche nella seconda. Con right ci mancava un record, quindi se noi vediamo, right, ok, eseguiamo questa query, noi abbiamo, se vedete in basso, 79 righe, però avevamo un null, perché c'era una chiave, che appunto, anzi ne abbiamo anche più di uno, che sull'ordine praticamente non era stato ancora fatto nessun ordine, però nella nostra grafica del prodotto era già stato mappato tutto. Se noi adesso facciamo l'inner, quindi passeremo da 79 righe, inner, ok, ah, sicuramente meno, ecco, di fatti vedete ce ne sono 58, quindi adesso vengono restituite le informazioni dove la chiave esiste su entrambe le tabelle, a prescindere che mettiamo la prima tabella prima o dopo della seconda, perché proprio l'inner non gli frega l'ordinamento di dove mettete la tabella. Bene, adesso abbiamo finito per davvero, spero che la lezione vi sia piaciuta, come sempre lasciate un bel like, magari, se volete aiutarmi a far crescere il canale condividete questi video all'interno dei vostri social network, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, ci vediamo alla prossima lezione, a presto, ciao! Ciao!